Per quanto riguarda l'annata 2019 che stiamo assaggiando, è molto molto buona. I vini sono variabili, dipendono molto dallo stile che esce molto in questi ultimi anni del produttore e forse anche di alcune scelte agronomiche ed enologiche, però andiamo dal buono all'eccezionale. Sono vini mediamente completi, con un frutto maturo, un tannino risolto, mai aggressivo, buona acidità. Quindi davvero una delle migliori annate che abbiamo assaggiato negli ultimi tempi. L'annata 2019 è stata un'annata particolarmente promettente, con tantissime aspettative. I produttori hanno avuto modo anche di evidenziare i propri stili e la propria mano. L'annata 2019 è attesa da tutti, un'incroce fra la 15 e la 16. Tanta esuberanza, tanta espressività, tanta facilità di capire i quadranti di Montalcino rispetto alla 17 e alla 18.